E poi Ellie, dobbiamo fare un quadretto familiare, e certo, Giorgia Colmerone arriva lì con la bambina, col compagno, ma noi siamo moderni Ellie, tu arrivi con la tua compagna, cosa? Cos'è? Qual è il problema? Non vuole farsi vedere? Vuole essere invisibile? E allora Ellie ti dico che si arriva in quattro, facciamo un quartetto, facciamo un quartetto Ellie, ascoltami, Francesca Pascale, Paolo Torci, tu e la tua compagna, i fantastici quattro, Francesca Pascale fa l'uomo torcia, donna torcia, insomma, colui che torcia, ecco, così non tocchiamo il gender, Paolo Torci farà mister fantastico, mrs fantastico, ecco, la tua compagna farà donna invisibile e tu farai la cosa, e per forza devi fare la cosa, e no, prendiamo l'arma economista e ti vestiamo di arancione, di arancione, sai la cosa? Anzi, iniziamo la campagna elettorale a Bari, a Bari, sì, così la gente quando ti guarda la dirà, e che cosa, e che cosa?